Il Comune di Ercolano, campione di riciclo. Ad assegnare il premio, il concorso Le Cartoniadi della provincia di Napoli, il campionato della raccolta differenziata di carte e cartone, organizzato da Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi, in collaborazione con la provincia di Napoli. Sette comuni in gara e i 30.000 euro vinti dai cittadini di Ercolano serviranno a finanziare una borsa di studio per studenti di scuole primarie, secondarie e istituti superiori, borsa di studio utile all'acquisto di attrezzature dedicate alla raccolta differenziata ad uso commerciale. Alla premiazione erano presenti Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, e Giuseppe Caliendo, assessore all'ambiente della provincia di Napoli. Siamo molto soddisfatti delle cartoniadi che abbiamo tenuto con la provincia di Napoli e in sette comuni nel mese di novembre. I risultati sono eccellenti, un incremento medio del 12%. Abbiamo avuto una performance molto importante da parte del Comune di Ercolano che è risultato primo, che è passato da una media di 20 kg di carta e cartone raccolti dai suoi abitanti a 32 kg. Oggi ha vinto la provincia di Napoli, hanno vinto tutti i cittadini, soprattutto i cittadini che si sono sottoposti a questa competizione leale, dal primo all'ultimo in classifica. Tutti i cittadini hanno contribuito a diffondere una cultura, la cultura giusta del riciclo.